Ci siamo, buonasera. Buonasera a tutti. Oggi facciamo questa diretta con l'onorevole Lisa Noia. Buonasera Lisa e benvenuta. Questo momento di riflessione che abbiamo immaginato sulla realtà politica che stiamo vivendo in questi giorni è stato organizzato da Gaia Raisoni che è la nostra coordinatrice di zona nord-ovest nonché la coordinatrice del comitato scuola di Milano provincia. Quindi grazie Gaia, grazie Gianluca del supporto a questa serata e lascia a te la parte a Gaia. Ciao a tutti, grazie. Presentiamo Lisa Noia, deputata di Italia Viva, componente degli organi parlamentari, dodicesima commissione degli affari sociali, la giunità delle elezioni e della commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. Si, elencato giusto. Grazie della tua partecipazione. Come già anticipato da Lucia, questo incontro in cui ringrazio anche Gianfranco Morelli, l'altro coordinatore di zona, è stato organizzato proprio per riuscire a dare l'opportunità a tutte le persone di avvicinarsi alle tematiche che sono così attuali in questo momento. Soprattutto l'ultima settimana è stata fondamentale, i lavori alla Camera e al Senato sono stati veramente tanti importanti. Prendo spunto da una tua frase, Lisa, che hai detto, se non diciamo di no adesso, perdiamo il diritto di alzare la mano. Puoi spiegarci come la battaglia che Italia Viva sta portando avanti in merito al Recovery Plan e tutto il resto al governo sia così attuale, sia così sentito e così giusto come battaglia che anche noi, che serati iscritti, simpatizzanti, facciamo nostra e portiamo nei nostri territori. A te la parola. Grazie, grazie Gaia. Intanto grazie mille per questa occasione che hai decisato di confrontarci in un momento che, come dicevi tu, è abbastanza critico e importante per il nostro paese. Ma allora, per fare un quadro, voi sapete che in questo momento l'Italia ha una grandissima opportunità, nel senso che in una tragedia terribile come quella che stiamo vivendo legata alla pandemia, l'Europa ha battuto un colpo e ha deciso, attraverso l'istituzione del Recovery Fund e, diciamo, del piano Next Generation EU, di stanziare delle risorse molto ingenti destinati ai paesi, con dei criteri di distribuzione che vedono l'Italia avere un affetto importante di questi fondi. Una parte dei fondi è data all'Italia da fondo perduto, una parte invece è a prestito, ma con delle condizioni molto favorevoli. Insomma, in tutto parliamo di oltre i due centenari di cui l'Italia potrà usufruire per la ripresa post-pandemica. Quindi è un'occasione enorme perché è un'occasione per l'Italia non solo, diciamo, di riprendersi, di rilanciare dopo la crisi terribile che stiamo vivendo legata alla pandemia, ma se siamo bravi, è anche l'occasione finalmente di poter fare degli investimenti importanti nei settori su cui il nostro paese deve puntare nei prossimi anni per garantire una crescita economica che consenta alle future generazioni di ripagare il debito che noi stiamo facendo per poter fronteggiare questa crisi. Quindi è un momento di svolta che, diciamo, è simile a quello che hanno vissuto i nostri nonni dopo la Seconda Guerra Mondiale quando c'è stato il cosiddetto piano marcia. Quindi noi cosa abbiamo detto per bocca di Renzi a luglio in un discorso che lui fece il Senato quando si complimentò con Conte per la trattativa che aveva portato avanti in Europa per arrivare a questo importante risultato insieme alla Merkel, anche la Macron, dimostrando che il senso di questo governo, che era quello di portare l'Italia, riportare l'Italia in un aldo europeista, abbandonando, diciamo, il sovranismo, il populismo che avevano caratterizzato il governo giallo-verde con, voi vi ricorderete, le visite ai gilet gialli, insomma, ritornavamo in Europa e ritornavamo in Europa con un ruolo. Quello che ha detto Renzi è stato Presidente, abbiamo l'opportunità della vita per il nostro Paese, lavoriamo tutti insieme, noi avevamo offerto la disponibilità a lavorare anche ad agosto, in Parlamento, maggioranza e anche forza di opposizione, perché quando parliamo di un progetto che influenzerà l'Europa dei prossimi vent'anni, è chiaro che è qualcosa che deve coinvolgere tutti, a livello politico, ma anche le categorie sociali, i sindacati, tutte le categorie, diciamo, datoriali, il terzo settore, il mondo della cultura. Stiamo parlando di disegnare l'Italia dei prossimi vent'anni, come dicevo. Lavoriamo per arrivare bene e in tempo con un piano condiviso e importante che dia la visione del Paese. Sono passati dei mesi da quel famoso discorso, noi abbiamo più volte sollecitato a lavorare tutti insieme, ricorderete che c'è stato l'incontro tra i leader della coalizione, ormai direi che è passato quasi due mesi, ci sono state discussioni. In Parlamento abbiamo anche cercato di fare un lavoro nelle varie commissioni con delle relazioni che davano delle indicazioni su quelle che erano ad avviso, diciamo, di tutti delle priorità. C'è stato dall'inpoio un silenzio totale, nonostante le ripetute richieste di condivisione, finché alla fine della settimana scorsa, con un'intervista, il Presidente Conte ha annunciato improvvisamente che il piano era pronto, che la governance per la gestione di questo piano era decisa, prevedeva la creazione di una task force di manager nominati non si capiva bene con quale criterio e di 300 consulenti che dovrebbero occuparsi dell'implementazione di questo piano. Dopo l'intervista, il giorno dopo c'era un CDA a cui sono stati convocati i ministri che hanno lavorato in questi mesi per presentare quelle che secondo loro erano delle priorità, ma non hanno mai avuto modo di vedere il documento organico, cioè hanno mandato un loro lavoro, ma non sapevano poi questo lavoro come sarebbe stato utilizzato. Il documento che sarebbe dovuto essere analizzato dal Consiglio dei Ministri è stato inviato, il Consiglio dei Ministri della mattina è stato inviato credo all'1.59 sulla PEC dei ministri, dei nostri ministri, immagino anche di tutti gli altri ministri, quindi la nostra ministra Teresa Bellanova e la nostra ministra Elena Bonetti, è un documento di circa 125 pagina, 35 pagina se non sbaglio, e l'idea era che con un emendamento alla legge di bilancio si sarebbe dovuta inserire la governance, quindi il modo in cui si decideva di implementare questo piano e bisognava approvare un piano che le ministri avrebbero dovuto leggere in pochissime ore, che ha un piano, ripeto, non stiamo parlando di una leggina, stiamo parlando dell'Italia dei prossimi 20-30 anni. Noi a questo punto abbiamo detto che noi non ci stiamo, che non si può procedere così, non si può procedere così né per quanto riguarda il metodo, cioè io vorrei far presente che la legge di bilancio quest'anno, come purtroppo è successo già tempo fa, se l'ha discussa alla velocità della luce, è arrivata in Parlamento in ritardissimo, voi dovete pensare che noi dovremmo iniziare ad avere l'esame in aula della legge di bilancio il 18 e approvarla nel giro di pochi giorni prima di Natale, in parallelo noi dovremmo alla Camera anche approvare il decreto di storie che arriverà dal Senato e dobbiamo approvarlo prima del 27 di dicembre, quindi voi vi potete immaginare quanto potremo approfondire i temi. La Commissione bilancio non ha ancora nemmeno iniziata a votare gli emendamenti, quindi non ha ancora iniziata nemmeno la votazione su gli emendamenti che poi dovrebbero modificare la legge di bilancio. La legge di bilancio arriverà in Senato blindata, cioè non sarà più modificabile perché deve essere approvata entro il 31 dicembre, quindi avranno in Senato pochissimi giorni, non possiamo certo permetterci di sforare la scadenza del 31 dicembre che farebbe andare Italia in esercizio provvisorio, ora voi immaginatevi se in una condizione come questa noi possiamo inserire a notte tempo un emendamento che va a decidere come gestire i 200 e passa miliardi del recovery fund che approva un recovery plan che come vi dicevo non è stato fatto sostanzialmente visto in anticipo né dai ministri né tantomeno dal Parlamento e tutto questo perché? Perché abbiamo perso 3-4 mesi in cui nonostante le ripetute richieste di lavorare è stato tutto tenuto, diciamo, voglio dire nascosto ma non è stato condivido. Allora noi diciamo tre cose molto semplici. La prima, ci sono i ministri, i ministri sono i responsabili politici dei vari dicasteri che dovranno essere coinvolti e noi crediamo che la politica debba avere un ruolo in questa partita, gli ministri sono lì per lavorare per il paese, rispondono del loro lavoro, non si capisce perché bisogna diciamo creare una struttura parallela con dei manager che tra l'altro secondo quello che è indicato, il piano che è stato sottoposto nottetempo non c'è scritto che requisiti debbano avere, che incompatibilità debbano avere, che tipo di limiti sui conflitti di interesse. Addirittura si adombrava che questi manager potessero lavorare per garantire diciamo la velocità in deroga tutta la normativa salve quella penale, sottraendo diciamo i loro atti addirittura al controllo della Corte dei Comiti, cioè una cosa mai vista prima e completamente fuori da qualsiasi tipo di diciamo di ragionevolezza costituzionale. Quindi ci opponiamo al metodo ma ci opponiamo anche al contenuto perché guardando questo piano si scopre che per esempio qualcuno, non si capisce, ha deciso che di questi 209 miliardi sulla sanità devono andare 9 miliardi. Sul turismo 3 c'è già una divisione delle risorse che non è mai stata discussa in Parlamento, non è mai stata discussa dai nostri ministri, non è mai stata condivisa con le parti sociali che ci stanno molto lamentando. Landini, non proprio il migliore amico di Renzi o di Italia Viva, ha detto scusate ma noi come sindacati, così come ovviamente anche tutte le categorie produttive, qualcosina magari avremmo da dire su come spendere questi soldi. C'è pochissimo sui giovani, c'è poco sulla scuola, cioè non si capisce chi ha deciso come si dividono le risorse, come si spendono con un documento che tra l'altro io mi permetto di dire per le materie in cui io mi occupo che sono insomma le materie legate al sociale, della sanità, vi ho già detto dopo una pandemia spendere solo 9 miliardi in quella che viene chiamata la rivoluzione della sanità italiana è ridicolo, ma sul sociale sono scritte 12 righe, è un'occasione d'oro per l'Italia per rimettere a posto il suo sistema di protezione sociale, per renderlo finalmente un sistema di protezione, non di mero assistenzialismo. Noi quello che diciamo è che ci sono le istituzioni che sono quelle in cui ciascuno di noi rappresenta i cittadini, che si assume la responsabilità anche delle scelte che fa davanti ai cittadini, non possiamo procedere così. Noi così non ci siamo. Se qualcuno pensa di inserire questo emendamento in legge di bilancio, noi voteremo contro la legge di bilancio, ci rendiamo conto della gravità di quest'atto e invitiamo il Presidente Conte a essere ragionevole, a sedersi a un tavolo, a discutere con tutte le forze politiche su come procedere, ad ascoltare anche le opposizioni. Io questo lo ripeto perché, ripeto, noi abbiamo tante idee diversissime dalle opposizioni, siamo quelli che hanno sempre sostenuto che le posizioni di Salvini e della Meloni siano i responsabili, ma non è che tu vinci la battaglia delle idee escludendo le opposizioni e immaginando che non abbiano mai niente di interessante da dire. Anche perché io faccio presente che proprio perché stiamo parlando di un piano che si svilupperà in cinque anni e più, nessuno di noi ha la garanzia che questo piano verrà poi applicato quando finirà questa legislatura dallo stesso governo, dalle stesse forze politiche che ci sono oggi. E i piani a lungo termine, che devono quindi essere poi applicati da qualunque forza politica si troverà ad avere l'onore di guidare questo paese, devono essere condivisi. Condividere non vuol dire che poi non c'è un governo che si prende una responsabilità, una maggioranza che non assume, diciamo, la responsabilità delle scelte. Però immaginare che non vengono neanche ascoltati, secondo me, è una cosa che non si può fare, è una cosa che va contro proprio non il garanzio istituzionale, la ragionevolezza istituzionale. Quindi noi stiamo facendo questa battaglia, siamo anche convinti che in realtà, e lo si vede, se voi guardate come stanno andando le cose gli ultimi giorni, ci sono dopo che Matteo Renzi ha alzato la mano, pur timidamente, ha alzato anche tante altre manine di altre forze politiche che hanno detto no, scusate, però in effetti forse bisogna riflettere tutti insieme in maniera un pochino più attenta. Lo stesso Ministro della Salute, ieri ha detto che 9 miliardi sono pochi, allora se l'ha detto lui vuol dire che evidentemente nessuno l'aveva consultato, nessuno l'aveva coinvolto. Fermiamoci, facciamo un respiro, ripartiamo, non si tratta di chi ha vinto, chi ha perso, perché questa è la battaglia per l'Italia e per il benessere delle generazioni future, quindi vince l'Italia, siamo tutti insieme, noi non vogliamo staccare niente, non vogliamo essere responsabili, ma io credo che la responsabilità sulla tenuta del governo, sulla stabilità del governo del nostro Paese non possa cedere il passo alla responsabilità verso il rispetto delle istituzioni democratiche e verso la tutela delle generazioni future che si troveranno a pagare il debito che noi spendiamo oggi e che quindi ha il diritto di sapere che il mondo politico ha fatto il meglio del meglio del meglio possibile. Il piano francese è già pronto, quindi è la dimostrazione che si poteva fare, non solo quello francese ma quello di quasi tutti gli altri Paesi e la governance di quel piano prevede uno stretto coinvolgimento delle forze politiche, del Parlamento, dei parlamentari europei, dei sindaci, anche lì non sono stati sentiti i governatori delle regioni, io non credo che si possa procedere così e quindi noi con molta tranquillità, con molta pacatezza chiediamo di ripensarci, di ridecidere insieme come procedere e chiediamo a Conte di assumersi lui la responsabilità di dire come vuole procedere, sapendo che si intende proseguire su una strada che noi rischiamo inaccettabile per il Paese, purtroppo Italia viva per coerenza, per coerenza verso l'interesse degli italiani non potrà che continuare a dire di no. Grazie Elisa, vorrei farti un'altra domanda rispetto al contenuto, al progetto che deve essere a lungo termine proprio come dicevi, sicuramente con la pandemia il tema delle fragilità che siano sociali, economiche, culturali saranno tantissime e quindi ci sarà bisogno che la politica sia veramente inclusiva, quindi nel prossimo futuro cosa vedi e cosa c'era in questa proposta che invece non trattava queste cose, no? Come come ci dicevi, ma che è un tema che proprio voi come Italia viva state battendo molto. Ma il problema non era tanto di quello che c'era ma quello che non c'era, cioè leggendo questo documento io per esempio non trovo nulla su quella che è la visione per esempio del welfare del futuro, allora noi sappiamo che come dicevi tu le fragilità del nostro paese usciranno ancora più fragili da questa pandemia. Noi abbiamo due scelte, possiamo immaginare di limitare l'aiuto alle persone più fragili con sussidi a go-go, sapendo che i soldi finiscono, oppure possiamo immaginare finalmente di mettere mano a un sistema che negli ultimi vent'anni purtroppo non è stato capace di rinnovarsi e di rispondere alle spinte innovative che per esempio sono nate in questi anni dal terzo settore. C'è tutta una linea di pensiero su quello che viene chiamato welfare generativo, cioè l'idea di un welfare che investe sulle persone per cercare di dare gli strumenti per riscattarsi, per aiutarle a superare la loro fragilità o comunque per aiutarle a tirar fuori il potenziale che hanno e questa è una grande occasione. Io vi faccio un esempio di due punti, di tre punti che per esempio secondo me noi non possiamo perdere su quello che dicevi tu, la tutela delle fragilità. Noi siamo un paese in cui il tema della non autosufficienza diventerà sempre più grave perché noi abbiamo una popolazione che invecchia, avremo un bisogno sempre più forte di strumenti che consentono alle persone non autosufficienti, cioè le persone che per ragioni diciamo di patologie, di condizioni di salute non sono in grado di compiere gli atti della vita quotidiana in autonomia, degli strumenti che gli consentano comunque di non solo vivere dignitosamente, ma nel caso per esempio delle persone giovani, di costruirsi una vita anche lavorativa perché non c'è nulla che impedisca una persona non autosufficiente anche di poter trovare una propria strada lavorativa. Noi abbiamo bisogno di una misura universale sulla non autosufficienza, cioè abbiamo bisogno di creare dei percorsi che consentano appunto questo sostegno, che differenzino tra età perché se una persona diventa non autosufficiente a 80 anni capite bene che quello di cui ci si deve occupare è diverso da una persona che non è autosufficiente a 10 anni perché la persona che ha 10 anni tu ti devi occupare di come aiutarla ad andare a scuola, a costruirsi una competenza che gli consenta di entrare nel mondo del lavoro. Ecco, abbiamo l'occasione di fare questo lavoro che va fatto bene perché non si tratta solo di distribuire soldi a pioggia, che poi i soldi a pioggia sono i solito pochi e magari non neanche arrivano dove dovrebbero arrivare. Si tratta di metterci la testa e di fare un pensiero sulla vita indipendente, sui progetti di vita indipendente. Ci sono tanti bei esempi anche in Lombardia stanno portando avanti delle proposte molto innovative. È un'occasione questa perché fare delle misure come queste costa. Vogliamo perderla? Secondo elemento, noi siamo in un paese in cui il fatto che abbiamo infrastrutture e un patrimonio edilizio molto vecchio crea un grosso problema di accessibilità. Al netto di tutto voi pensate anche nell'edilizia privata quanti pochi sono gli edifici accessibili. Se una persona che è in carrozzina perché è anziana, perché è una persona con disabilità, perché ha dei problemi diciamo motori, deve cercare un appartamento in una città come Milano che non abbia gradine all'ingresso. Io vi assicuro che è un'impresa. Abbiamo un sistema di trasporti vecchio, il fatto che sia vecchio fastidio, sia un trenino accessibile. Ecco, possiamo noi perdere l'occasione di mettere in atto un grande piano sull'accessibilità che ci consente di arrivare a dei livelli di standard, di qualità dell'accessibilità simili a quelli della California, dove io ho vissuto e potevo andare dappertutto, dappertutto e non stiamo parlando quindi di una cosa impossibile da fare. Terzo punto, la sanità. Siamo in un momento, guardate, al di là della pandemia, ma dal punto di vista scientifico, è un momento magico, perché è un momento in cui stanno venendo fuori delle cure, delle terapie avanzate per una serie di patologie, fino a poco tempo fa considerate non trattabili, innovative e che possono dare dei frutti incredibili. Sono però terapie molto costose, ma che possono essere molto risolutive. Noi abbiamo il dovere di trovare un sistema che consenta a tutti l'accesso a queste terapie, il che richiede una ristrutturazione della spesa sanitaria. Possiamo perdere questa occasione, cioè possiamo dire che se abbiamo delle cure molto innovative sul cancro, che consentano per esempio di evitare la chemioterapia con delle cure meno invasive, noi non diamo agli italiani questa occasione, perché decidiamo che mettiamo solo 9 miliardi per fare che cosa non si è capito. Io non credo, cioè io non vado a dormire tranquilla pensando a una cosa del genere. E quindi manca tutto questo. Gaia, facciamo una pausa legata, pausa per modo di dire, legata alle tantissime persone che ci stanno seguendo, tra l'altro questo è un bellissimo segnale. Devo dirti, Lisa, che tantissimi dicono tenete il punto, state portando avanti una battaglia per i prossimi anni e quindi insomma fa piacere leggere questi messaggi. Quello che piacerebbe dire a me è che noi dobbiamo prendere le tue parole e portarle in giro nei nostri territori, perché non è banale capire il lavoro che stiamo facendo, cioè ridare centralità al Parlamento con una qualità di pensiero, qualità di soluzioni. Poi d'altra parte noi siamo quelli che voi soprattutto, ma noi siamo quelli che nei tre anni insomma di governo Renzi e PIL hanno fatto crescere, insomma ci hanno visto lungo coi numeri. Quindi portiamo, lo dico a tutti quelli che ci stanno seguendo, che sono veramente tanti, i nostri parlamentari e Matteo terranno il punto, però noi dobbiamo impegnarci a far passare i messaggi che Lisa ci sta raccontando con grande dovizia, perché non avremo tutta la stampa che ci aiuterà in quello che stiamo facendo. Però è una battaglia, fatemi dire, anche questa si inserisce tra le battaglie di civiltà, pensare a 9 miliardi in 5 anni per la sanità, c'è una nostra ascoltatrice in questo momento che ci dice abbiamo il patrimonio artistico, abbiamo il 70% del patrimonio artistico di tutto il mondo e ci mettiamo a 3 miliardi, sembra una barzelletta, insomma. C'è Chiara che per esempio sottolinea, te la lancio anche Lisa, forse invece che mettere una task force, converrebbe lavorare per selezionare la classe dirigente del paese a livello pubblico e amministrazione attraverso più concorsi mettere soldi per fare concorsi e alzare la qualità, il livello della classe dirigente della PA per far sì che possa funzionare, piuttosto che andare a prelevare dei consulenti. Matteo ha detto una frase che sta entrando un po' nella testa di tutti, abbiamo tagliato 300 parlamentari per mettere 300 consulenti, che detto tra me e voi costano anche abbondantemente di più, perché poi smentiamo anche questa cosa che i parlamentari, poi lo dico davanti a Lisa Noia così almeno che si diventa ricchi, cioè i consulenti prendono cifre anche diverse. Tanti commenti su questa stregua, però ascoltate quello che dice Lisa, portiamolo anche nelle nostre case, nelle nostre famiglie. Lu se vuoi c'erano altre domande? Sei muta? Scusatemi, stanno arrivando moltissime domande perché obiettivamente il tema è caldissimo e chi ci ascolta e chi ci segue veramente si vede dai commenti e dalle reazioni felice di avere questa occasione di approfondimento, perché poi spesso nella comunicazione dei media è tutto, finisce tutto un po' mischiato e si fa fatica poi a ragionare sui singoli aspetti, quindi è molto importante secondo me avere un momento in cui con calma sentire una voce chiara che spiega dall'interno esattamente che cosa sta succedendo al di là degli slogan, al di là dei posizionamenti. Come dici tu, è un momento in cui se vinciamo vinciamo tutti, vince l'Italia, quindi forse questo è veramente il messaggio più forte che possiamo lanciare e per cui dobbiamo veramente sentirci tutti corresponsabili del successo di questo momento in cui forse l'Italia Viva un po' ha giocato il ruolo del bambino che finalmente dice che il re è nudo, forse Matteo Renzi in Senato ha detto quello che tanti pensavano e nessuno diceva, evidentemente. C'è un aspetto che ha toccato anche Matteo nel suo discorso che è quello della questione servizi segreti fondazione, se vuoi dirci due parole perché obiettivamente è una cosa che è rimasta un po' a margine ma che insomma ha un peso importante. Ma guarda, questo è un altro aspetto su cui dal nostro punto di vista è un po' incomprensibile la piega che sta attendendo la discussione. Noi abbiamo questa proposta sulla cyber security di una costituzione di una fondazione privata in cui non si capisce bene che ha degli elementi di opacità e di cui sinceramente si sente il bisogno che addirittura nel Copacir, quindi il capitato che si occupa dei servizi segreti in cui siedono tutte le forze politiche, tutte le forze politiche hanno detto non va bene, non siamo d'accordo perché il tema dei servizi segreti della cyber security voi capite che è un tema delicatissimo rispetto a quale l'idea che si perda quel controllo di legittimità che è garantito da una serie di elementi, tra cui appunto il Copacir, che per dirvi è un comitato che è presieduto sempre da un esponente dell'opposizione proprio perché c'è la delicatezza di essere sicuri che come dire i servizi segreti non diventino mai uno strumento utilizzato dal governo per finalità diverse da quelle della sicurezza dei cittadini. Allora una questione così, con una posizione del Copacir che dice non va bene, non procediamo in questo modo e viene proposto anche lì di inserire un emendamento nella legge di bilancio che avrà le caratteristiche che vi dicevo, cioè una discussione molto limitata, in aula la discussione sarà sostanzialmente cioè non ci sarà, noi la decidiamo nottetempo perché? Che senso ha? Poi ci chiedono a noi ma perché voi vi mettete di traverso? Ma ci mettiamo di traverso perché sono scelte incomprensibili, sono scelte pericolose. Noi addirittura diciamo che la delega sui servizi segreti che in questo momento è in capo al Presidente del Consiglio non ha senso che sia in capo a lui non perché il Presidente del Consiglio non è persona specchiata ma perché non ha tempo di occuparsi dei servizi segreti. Nessun Presidente del Consiglio ha tenuto su di sé una delega così delicata e che richiede tanto tempo e tanta attenzione. Il risultato è che non riesce a fare quello che deve fare il Presidente del Consiglio. Allora invece di dire io faccio la prima cosa che andrebbe fatto, cioè prendo una delega e la affido come Renzi l'aveva affidata a Miniti. No, noi la teniamo in capo al Presidente del Consiglio e facciamo una fondazione privata per occuparsi di cyber security. Ecco, per noi sono cose incomprensibili, quindi non è che noi ci mettiamo di traverso come dice qualche commentatore perché volete trattare posti, volete... No, noi quello che stiamo dicendo è su questioni di portata nazionale che hanno a che fare con la sicurezza dei cittadini, la discussione deve avvenire in Parlamento e deve avvenire con la possibilità di tutti i parlamentari, della maggioranza dell'opposizione di analizzare provvedimenti così importanti come si deve. Non dentro a provvedimenti che non c'entrano nulla come la legge di bilancio in maniera frettolosa, blindata e diciamo per portare a casa il risultato perché appunto ti mettono di fronte all'out house e ma così non voti la legge di bilancio e crei un problema al Paese. Ecco, non è che siamo noi che creiamo il problema al Paese perché diciamo che così non votiamo la legge di bilancio. È chi pretende di mettere nella legge di bilancio quelle norme che crea un problema al Paese. È lui che deve assumersi la responsabilità. Quindi pacatamente noi diciamo anche su questo non si fanno così le cose, non perché Italia Viva vuole qualcosa, ma perché è contro l'interesse dei cittadini italiani. Chiarissimo. Vai Gaia che poi facciamo un altro giro dopo. Facciamo un altro giro dopo. No, a me è fatto molto piacere sentire che comunque c'è un clima intorno a Italia Viva anche da altri esponenti di altri partiti, sia partiti della maggioranza, sia partiti dell'opposizione. Quindi comunque c'è stato un cambio di attenzione, cioè Italia Viva viene sentita di più. Questi sono temi che toccano tutti, toccano il Paese, toccano le istituzioni. È il caso di riportare la discussione nelle sedi opportune, no? Si diceva. Quindi i prossimi passi quali possono essere? Ma allora, intanto noi aspettiamo quindi la palla adesso è nel campo del presidente Conte che di fronte a una posizione molto chiara di una sua forza di maggioranza ma devo dire, nelle ultime ore di fronte al fatto che anche altre forze di maggioranza comunque, pur diciamo magari un po' meno, una decisione meno forte e diciamo venendoci un po' dietro ma hanno comunque cominciato anche loro a sollevare alcuni dubbi e deve dire come intende procedere e noi il lavoro che stiamo facendo e che faremo nelle prossime ore è comunque proprio perché il nostro intento è quello di dare una mano al Paese è di formulare le nostre proposte rispetto al documento che c'è stato, che è circolato di dire la nostra e di spiegare cosa manca, cosa va cambiato naturalmente non è che noi pretendiamo che il documento su Recovery Plan sia il documento di Italia Viva quello che pretendiamo è che sia il documento frutto di un confronto tra le varie farsi politiche in cui anche Italia Viva che ritiene di avere delle idee da poter portare utili al Paese si è ascoltata e si argomenti anche il perché magari una cosa si ritiene non utile e un'altra cosa utile si argomenti perché alcune delle proposte tipo quelle che io vi ho menzionato prima non sono ritenute utili per il futuro del Paese quindi noi lavoreremo ai contenuti per anche se al momento diciamo non c'è stato richiesto purtroppo ma lavoreremo per essere pronti quando finalmente confidiamo a brevissimo si aprirà il confronto in Parlamento che si deve aprire per avere le nostre proposte peraltro un lavoro che comunque in questi mesi abbiamo già fatto perché noi negli incontri che si sono tenuti ripetutamente un altro tema che è diciamo la revisione dell'accordo di governo per capire da qui alla fine legislatura cosa vogliamo fare abbiamo tutti lavorato ognuno per le proprie materie di competenza per disponere un documento cioè abbiamo fatto davvero i compiti a casa li abbiamo sempre fatti aspettiamo che Conte ci dica come intende procedere avendo chiarito che se intende procedere in un certo senso Italia Viva non ci sta Contrasparenza, schiettezza e realtà la realtà però non è diciamo tu mi porti sull'orlo della scadenza perché così io ti devo dire di sì a tutti i costi la realtà è che noi ti diciamo prima le cose e le cose che diciamo oggi le abbiamo iniziato a dire a luglio quando qualcuno ci dice ma dove eravate noi eravamo in Parlamento e queste cose le dicevamo a luglio e le abbiamo dette in tutti questi mesi questo è molto importante perché è un messaggio che spesso non passa sulle principali testate no, infatti, le chiedono a noi ma perché non è a noi che dovete chiedere chi ha fatto quel documento lo dovete chiedere a chi l'ha proposto quel documento da dove viene non viene da noi e da noi non è mai che è stato chiesto il nostro parere e ripeto, noi queste cose le andiamo ripetendo da mesi quindi il problema è che non è accettabile usare la tecnica della tiro la palla avanti, tiro la palla avanti, tiro la palla avanti non ti dico niente, non ti dico niente perché poi così di fronte al fatto compiuto ti dico eh non vorrei mica mandare a carta 48 la legge di bilancio per il paese scusate non si procede così non è rispettoso non di noi ma del metodo democratico ripasso la palla a Lucia e Gianluca se ci sono qualche interventi dai nostri spettatori ne sarebbero tantissimi prima di riassumere il tema è evidentemente molto sentito c'è anche qualche commento diciamo non tutto non totalmente in accordo ma che propone un confronto ne sto leggendo uno adesso che che dice ma dato che fondamentalmente i grillini e i loro ministri non sono non sono di qualità perché non farlo fare i manager ecco diciamo che la centralità del Parlamento e del governo dovrebbe favorire il fatto che i ministri facciano facciano i ministri sensazioni ma se un ministro e non sono io a dirlo ma se un ministro non funziona devo cambiare il ministro o devo prendere un manager lasciare lì il ministro e far lavorare il manager nel posto del ministro cioè la domanda è questa giusto poi Lisa non c'è il problema no? perché i ministri migliori del mondo ha Conte quindi evidentemente evidentemente non ce n'è non ce n'è bisogno poi vari commenti Lisa sul fatto che siccome oggi Conte da Bruxelles ha parlato insomma dicendo evidentemente parleremo con tutte le forze politiche ovviamente del recovery di quello per cui è stato diciamo in qualche modo neanche attaccato è stato in qualche modo posto al centro del dibattito parlamentare da Matteo qualche giorno fa se le sensazioni sono positive insomma si parla di sensazioni evidentemente cioè credete che Conte possa fare un passo indietro che possa ascoltare con attenzione le nostre le nostre proposte dato che hai chiarito più e più volte e lo chiariamo anche a tutti quelli che ci seguono che non che non molliamo su questo su questo punto perché sono troppe le cose che che non ci vanno bene quindi molti ci chiedono se le sensazioni sono che che tornerà sui suoi passi ecco fondamentalmente basta che non lo faccia il 31 dicembre ecco lo aggiungo io ma guarda io in realtà spero che Conte faccia un passo avanti più che un passo indietro cioè faccia quel passo avanti di coinvolgimento di capacità di ascolto oggi le parti sociali la la CGL adesso noi siamo pronti vogliamo chiederci al tavolo cito la CGL per dire che cioè parliamoci chiaro non è che Renzi è il mio amico di Lavevini ok allora qualche dubbio sul fatto che ci sia su questo tema davvero una condivisione di posizione tra la linea e Renzi secondo me deve far venire qualche dubbio a quelli che sostengono che noi siamo i maschi che vogliono fare pasticci perché ci divertiamo a fare come dire già burrasca della situazione quindi io spero che faccia un passo avanti che faccia quello che avrebbe dovuto fare già da mesi e anche lì quando si dice ascolteremo tutti sì ma capiamoci non è che ascoltare vuol dire ti convoco ti ascolto non c'è un testo su cui lavorare poi ti propongo un testo non ti do modo di commentare il testo perché te lo do all'ultimo minuto cioè ascoltare per me vuol dire ascoltare dire perché quello che ascolti lo ritieni utile o non utile argomentando e motivando anche le posizioni perché secondo me io cerco sempre nel mio piccolo di motivare le mie scelte sempre credo che sia un dovere verso i cittadini a maggior ragione penso che sia un dovere quando stiamo parlando del futuro dell'Italia e poi da lì ovviamente si arriva a una sintesi cioè ripeto nessuno di noi pensa che tutto quello che propone Saria Viva debba essere accettato in tutto quello che propone perché però quello che viene chiesto è un ascolto autentico che possa anche modificare le cose non è che noi vogliamo andare lì e fare come dire dei bei discorsi e bere un tè insieme e soprattutto bisogna sapere dov'è la sede di questo discorso perché io credo che un dibattito così serio in cui è anche importante che i cittadini capiscano quali sono le posizioni in gioco quali sono le proposte quali proposte tra quelle che vengono diciamo portate all'attenzione del paese vengono accolte e quale no si svolga in modo trasparente e qual è il luogo migliore del Parlamento italiano italiano qual è io non lo capisco cioè non vedo un posto è un posto in cui qualunque cosa accada è mandato in diretta da Radio Radicale e dalle televisioni online di Camera e Senato qual è il modo migliore per far capire agli italiani a che parte stiamo andando se non discuterne lì a meno che qualcuno ritenga che il Parlamento ormai è un orpello inutile però mi lascia sempre un po' stupito che chi a noi quando nel 2016 proponevamo una riforma che manteneva il Parlamento e che si limitava a correggere delle problematiche che oggi sono sotto gli occhi di tutti dal titolo quinto al tema del bicameralismo paritario che è sotto gli occhi di tutti perché io sono entrata in questa legislatura ormai io chiamo il nostro bicameralismo il bicameralismo a sorteggio cioè quando il provvedimento parte dalla tua camera tu potrai fare qualcosa se no sai che non potrai toccare palla e io non credo che sia molto giusto perché lo strumento che ho io di lavoro è quello degli emendamenti se mi viene già detto che sul decreto di storia non potrò fare niente io non mi sento di star facendo un buon lavoro per i cittadini quindi a noi dicevano che volevamo l'uomo sarà il comando e che stavamo mettendo in atto un piano autoritario perché volevamo correggere delle storture che oggi sono sotto gli occhi di tutti e su cui ormai direi quasi tutti dicono che bisogna mettere mano e invece di fronte a questa cosa di sottrarre al Parlamento la possibilità di alzare la mano sul piano più importante dal dopoguerra tante voci che allora si levavano io mi auguro che da domani diciamo si levino con più forza perché se no non capisco ecco non capisco classe che classe proprio in questo senso giustamente stanno arrivando una valanga di domande e Annalisa Cordella ne pone una che effettivamente ci siamo posti in tanti cioè è abbastanza assordante il silenzio degli altri partiti di maggioranza cioè Italia Viva è rimasta stupita per l'arrivo di questo documento in questo modo con questa tempistica con queste modalità ma il PD e 5 Stelle la domanda è hanno messo mano loro al documento per cui non reagiscono oppure la paura di rompere un patto oppure cos'è perché questo silenzio soprattutto del PD è veramente assordante ma guarda io non sono proprio la persona più aliena dalle dietrologie quindi io sono certa che se il documento è arrivato all'1.59 del nostro ministro è arrivato all'1.59 a tutti i ministri non immaginerò mai che ci possa essere una diversità di trattamento penso che qualcosa si stia muovendo anche lì molto più timidamente secondo me sarebbe giusto invece che su questa battaglia ci fosse decisione e determinazione comune perché ripeto non è una battaglia che Italia Viva fa per ottenere qualcosa per Italia Viva ma è una battaglia che si fa per rispettare le istituzioni democratiche diciamoci a noi insomma tocca sempre un po' questo compito di essere quelli che vengono qualche giorno fa in un retroscena un importante esponente politico si attribuiva la frase secondo cui bene Renzi sta facendo il centro avanti di sfondamento noi ci tocca sempre un po' questo ruolo che ci prendiamo anche un sacco di critiche perché poi ci fa sempre passare per quelli che appunto vogliono fare pasticci vogliono fare confusione poi però col senno di poi ora un altro piccolo esempio noi abbiamo discusso in maniera molto decisa durante la discussione sull'ultimo diciamo sulle regole per Natale la famosa regola sullo spostamento tra comuni vi parla una voi lo sapete a cui tutto si può dire forché che sia stata abbia avuto posizioni che aperturista mi fa un po' ridere questa questa parola cioè io sono una delle persone credo anche all'interno del mio partito che ha avuto una delle linee più rigorose perché insomma credo che davvero questa pandemia sia che tenere sotto controllo la pandemia serva anche per la ripresa economica quindi se lo dico io penso che nessuno mi possa accusare di essere una che in questi mesi ha voluto fare continuamente critiche alle misure per il governo però secondo me è una misura veramente un po' razionale perché non si capisce per quale motivo io posso andare a trovare mio nonno da Porta Romana a Niguarda e invece da Sperenio a Monza no cioè non è che il rischio di aspettare il nonno cambia se vado a Sperenio a Monza rispetto a io avrei preferito rispetto alle festi di Natale delle raccomandazioni molto più chiare molto più forti su come comportarsi in casa quindi spiegare che se tu fai diciamo un ritrovo piccolo tra persone che non convivono magari tenere la mascherina areare molti locali per le distanze il distanziamento è importante l'idea invece di penalizzare alcuni cittadini che magari sono completamente soli perché noi abbiamo delle persone che vivono in comuni diversi dai loro familiari magari sono anche anziane e per loro questo significa passare il Natale da solo allora tanti mi hanno scritto e vabbè per un Natale cosa succede insomma io inviterei tutti a pensare cosa vuol dire stare a Natale completamente da soli in un anno che è stato per certe persone difficilissimo ed è stato un anno molto solitario perché io conosco tante persone tragili che vivono segregate da mesi mesi e mesi allora anche lì avrei sempre un po' di attenzione di sensibilità nel dire chi se ne frega del Natale anche se uno lo fa da solo noi l'abbiamo detto adesso oggi tutti quanti dicono eh no però quella regola lì non va bene avendoci tacciato di quelli che sono sempre di traverso è un po' raro che purtroppo ci ritroviamo ad assumere però magari se così ogni tanto non considerassero sempre che le nostre politiche sono da Gianburrasca ma magari hanno anche un senso così come far presente che questo divieto che scatta solo da un certo giorno di dicembre penalizza che magari è costretto a lavorare fino al 24 di dicembre e invece consente a chi si può ha la possibilità di andare in vacanza una settimana prima di spostarsi dove vuole non erano cose proprio irragionevoli quelle che noi ponevamo adesso tutti dicono quelle regole forse bisogna ripensarle quindi noi non vogliamo fare i rompiscatole però non si può neanche pretendere che non diciamo mai la nostra perché sennò ci dicono che siamo dei rompiscatole perché poi a volte ci dicono che avevamo ragione che avevamo ragione non ce lo dicono mai però vengono dalla nostra parte quando uno ha dei contenuti poi quando li tira fuori risulta a volte non graditissimo ecco diciamo così io vorrei che tutte le volte gli argomenti fossero il verito cioè se tu hai degli argomenti per dirmi che quello che sto dicendo su i spostamenti a Natale sono delle sciocchezze ne discutiamo io sono contenta di discutere e magari mi convinci pure perché io ma non è che tutte le volte mi puoi dire no però tu parli solo perché vuoi rompere le scato perché quello non è un argomento assolutamente Gaia avevi qualcosa o facciamo una chiusura dato che ci eravamo dati sì una chiusura sarà magari un'altra occasione perché è stato bellissimo fare questa chiacchierata quindi spero potremmo replicare è stato molto bello e molto gradito da tutti i nostri iscritti e simpatizzanti che hanno seguito veramente con grandissima attenzione le tue parole c'è c'è veramente tanto tanto seguito questa diretta è stata molto seguita e sono tantissime anche le domande a cui non riusciamo a rispondere ma evidentemente gli spunti di riflessione che ci hai dato permettono anche un ulteriore ragionamento sicuramente l'hai detto l'hai detto bene non è questione di rompere le scatole è questione che 200 e passa miliardi d'Italia non li avrà per i prossimi 20-30 anni mai più quindi quello che stiamo provando a fare è semplicemente creare il futuro delle generazioni a venire quindi è una battaglia più che sacrosanta evidentemente noi siamo un po' più coraggiosi di altri evidentemente il merito dovrebbe essere una linea la linea che conduce non sempre lo è però insomma siamo tutti con voi spero che lo sentiate c'è un seguito molto forte tantissimi hanno seguito tantissimi lo stanno dicendo che dirti grazie grazie perché venerdì sera siamo tutti molto stanchi hai fatto un'ora di grande racconto di una settimana molto complessa in attesa delle prossime in cui sicuramente Italia Viva porterà indipendentemente da quello che diranno i giornali Italia Viva porterà a casa un importante risultato Gaia se vuoi ringrazio io ringrazio te Elisa ringrazio Gianluca Lucia sempre per l'ospitalità e il supporto e tutti gli ascoltatori che ha seguito la diretta raccoglieremo comunque gli spunti magari anche per riflessioni all'interno dei nostri comitati dei nostri incontri di zona quindi benvenga grazie grazie a tutti non mollate e noi continuiamo a portare sul territorio a voi esatto l'importante il lavoro che vi state facendo è preziosissimo io dico sempre solo una cosa con questo studio guardate dopo la seconda guerra mondiale l'Italia è diventata quello che è ed è stato un esempio per la cultura per anche per le sue capacità di innovazione nel campo sociale io ricordo sempre che insomma i 20 anni successivi alla seconda guerra mondiale sono stati anni di grande divisione ma in cui quella divisione non ha impedito di fare alcune scelte che hanno fatto la storia io vi ricordo solo due cose il servizio sanitario nazionale che è una delle cose più prezioso che noi abbiamo e che in tanti paesi non c'è oppure una conquista come quella della legge sull'inclusione scolastica dei bambini con disabilità guardate che non c'è nessun paese al mondo che abbia una legge lungimirante come la nostra da quel punto di vista io penso che noi abbiamo il dovere non dico di riuscire a diciamo essere grandi come sono stati i grandi i padri costituenti quelli che hanno ricostruito l'Italia dopo guerra però insomma abbiamo l'occasione di poterci avvicinare fare anche noi una Italia post pandemica che abbia quella grandezza che consenta l'Italia di diventare tra le sette economie mondiali più importanti se perdiamo quell'occasione non è che l'alternativa dire vabbè rimaniamo cioè l'alternativa è che retrocediamo totalmente cioè non c'è in questa pandemia in questo post pandemia una serie B cioè la serie A o la serie D esiste la serie D non me ne intendo di calcio comunque insomma andiamo tra i dilettanti ecco come paese e noi questa responsabilità la sentiamo molto forte quindi restiamo uniti e spieghiamo a tutti che questo è il nostro tema non altro fare dell'Italia tornare a rendere l'Italia il paese grande che può essere nonostante quello che è stata la pandemia noi possiamo farlo e non me lo perdonerei mai da parlamentare della Repubblica Italiana se non avessi fatto tutto quello che è necessario grazie Elisa grazie perché ci sentiamo rappresentati meravigliosamente da te davvero grazie grazie Gaia per aver creato questa occasione grazie Gianluca e grazie a tutti buona serata buonanotte buonanotte grazie Elisa buonanotte 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 Grazie.